L'associazione Barra Sinistra presenta come candidato sindaco nelle file del PD Matteo Polletti, operaio Tireno Power e atleta. Quale sarà il suo contributo all'interno della lista a sostegno di Cristina Battaglia? Guarda, per prima cosa volevo ringraziare Barra Sinistra per avermi scelto. Sono anni che collaboro ormai con Dario Lavagna e quando lui ha ponderato la sua scelta mi sono sentito molto onorato e ho deciso di affrontare questa sfida dopo aver aiutato Cristina nelle primarie. Ora spero di poter dare il mio contributo per Savona, soprattutto nell'ambito sportivo che è un mondo che mi appartiene. Credo che Savona possa diventare una vera e propria palestra a cielo aperto, magari riqualificando tutti i giardini che abbiamo e attrezzandoli per poter creare anche dei percorsi tra loro utili anche al mondo del running. Come rendere Savona una palestra a cielo aperto e come riqualificare le aree verdi? Questo mi piacerebbe, so che i fondi del comune purtroppo non sono molti, però magari attraverso la collaborazione con dei partner privati o delle sponsorizzazioni riuscire ad attrezzare i giardini, magari migliorando nell'illuminazione e la pulizia e dotandoli di attrezzature per fare ginnastica, in modo tale che qualunque persona, magari collaborando anche con l'Università di Savona e la Facoltà di Scienze Motorie, creare proprio delle vere e proprie lezioni aperte a tutti. Inoltre si potrebbe anche collegare tra loro i vari giardini, in modo tale da avere dei percorsi utili anche per i runners, anche dotandoli di mattonelle che segnano chilometriche, che segnano proprio la distanza tra i vari giardini. Spero di poter portare a Savona il mio contributo e soprattutto anche collaborare con le associazioni sportive che sono un'eccellenza per Savona per quanto riguarda l'aspetto agonistico e delle competizioni. Credo in una Savona turistica, soprattutto grazie a grandi eventi sportivi che possono essere fatti sia a livello amatoriale che a livello professionale.